Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, parleremo dei Baskers perché ieri è stata inaugurata a Ferrara la nuova edizione che torna, come diciamo ai livelli pre-pandemia ovvero tra le strade vedremo le immagini dell'inaugurazione ieri sera e poi questa sera torneranno gli artisti di strada in centro città ma vicino al centro di Ferrara è stato inaugurato ieri sera lo Spal Store, grande l'affluenza dei tifosi ma non solo per una squadra, colori bianco-azzurri che vogliono essere sempre più vicini alla città. A proposito di Spal parleremo anche di calcio a mercato che è ancora aperto e del trasferimento del centrocampista Viviani al Brescia ma in questa edizione parleremo anche però degli effetti, degli aumenti del gas che questi hanno e stanno avendo oltre che sui nostri portafogli anche sul settore agroalimentare molto importante per il ferrarese. Parliamo di cronaca perché ha fatto scalpore l'arresto per le due persone che avevano 14 kg di Ascis quindi una operazione molto importante quella messa a segno dalla polizia. Andremo anche lì di Comacchio dove i valori dei batteri in mare sono nella normalità, nella norma secondo le autorità ma poi parleremo anche di lavori in questa edizione come ad esempio la riapertura della prospettiva che è prevista per il 5 settembre prossimo quindi prima dell'inizio della scuola lo sapete che la prospettiva è stata al centro quest'estate di un'importante opera di riqualificazione ma insomma potrebbe tornare la circolazione alla normalità appunto dal prossimo 5 di settembre. Ma apriamo appunto con il Ferrara Baskers Festival che ha spento 35 candeline, siamo alla 35esima edizione e dopo la parentesi pandemica ha inaugurato il suo ritorno in pienezza nelle strade e nelle piazze cittadine con oltre 100 artisti di strada che fino a domenica prossima animeranno la città con circa 120 spettacoli. A sera è tornato anche il dopo festival dalla mezzanotte a Parco Massari a segnare il pieno ritorno dell'evento dopo le due passate edizioni con limitazioni e contingentamenti. Causa Covid è stato ieri sera un momento di festa che vedete con Brindisi in piazza Trento Trieste, cuore della manifestazione alla presenza tra gli altri delle istituzioni dello storico fondatore Stefano Bottoni e della presidente del Ferrara Baskers Festival Rebecca Bottoni. Sotto la vela installata in piazza tra sdrai e area ristoro con il servizio curato dai giovani del Vergani Navarra e con l'animazione dei Baskers è stata anche sancita una nuova collaborazione tra Ferrara e Venezia nel segno dell'arte di strada ovvero il prossimo anno sarà realizzato nel fuori biennale legato al padiglione di Venezia un evento per parlare di Baskers torneremo a parlare di questo ovviamente ma come ha ricordato Bottoni nei prossimi giorni e dal punto di vista musicale sono attese molte novità come Omar Pedrini già leader dei Timoria che sarà in città domenica nella giornata di chiusura per esibirsi ma oggi come anticipato sempre Bottoni è attesa una sorpresa questa sera con un testimonial particolarmente famoso che si esibirà tra gli artisti di strada quindi è entrato nel vivo il Baskers Festival che appunto vi racconteremo in questi giorni e che già è stato inaugurato già ieri ma prima di questa c'è stata l'anteprima del festival a Comacchio martedì sera come da tradizione 12 gli artisti che si sono esibiti per le vie della cittadina lagunare vediamo prende il via questa sera in città il Ferrara Baskers Festival l'attesa manifestazione giunta alla sua 35esima edizione andrà in scena per le vie del centro storico dal 24 al 28 agosto tornando nella versione più tradizionale dopo i due anni fortemente condizionati dal covid intanto ieri sera come viene di consueto dal 1994 Comacchio ha offerto un'anteprima dell'evento con 12 artisti che si sono esibiti tra i canali della cittadina lagunare l'evento ha attirato l'attenzione anche di turisti stranieri che si trovano in vacanza sul litorale l'anteprima comacchiese del Ferrara Baskers Festival ha preso il via dai suggestivi tre ponti ma si è snodata per tutte le vie del centro storico animando la località per tutta la serata soddisfatto il fondatore e tuttora direttore artistico dell'evento Stefano Bottoni che ha commentato per noi l'esordio della 35esima edizione come sentite alle mie spalle c'è un gruppo che nessuno conosce qui a Comacchio che però ha pubblico come vedete alle mie spalle probabilmente l'effetto della musica di strada dell'effetto money skin che può sembrare riduttivo fa sì che la musica di strada ha ritrovato un ruolo di intrattenimento e di buon vivere di buon vivere e credo che le persone che sono qua che stanno ascoltando vengono per dei musicisti non conosciuti questi che sono alle mie spalle e quindi viva la musica di strada parliamo di spalle adesso un folto gruppo di appassionati ha presenzato ieri all'inaugurazione del nuovo store in via Mazzini al civico 28 abbiamo voluto portarci nel cuore della città ha detto dopo il tradizionale taglio del nastro che vedete è tutto ovviamente in bianco azzurro così ha parlato Gio Tacopina lo store fa bella mostra con le sue vetrine a due passi da piazza Trento Trieste oggi abbigliamento gadget e tutto quanto può essere così di interesse dei tifosi che appunto ha fatto anche bella mostra degli ambienti che si trovano a livello stradale al piano terra ma a breve sarà possibile salire anche al piano superiore dove si potrà rivedere anche la storia della società bianco azzurra vedete qua le immagini appunto di Tacopina ma anche di quello che si trova nello Spal Store e la presenza di alcuni giocatori tra cui Dickman Moncini e altri oltre che anche Meccariello nel nuovo Spal Store in via Mazzini a Ferrara e però il calcio mercato è ancora aperto e dopo Marco Mancoso anche Federico Viviani lascia la Spal a conclusione di un lungo corteggiamento iniziato a direttura nel corso del mercato invernale la società di Cellino ha raggiunto l'intesa con quella di Tacopina e si è assicurata uno dei migliori centrocampisti della serie B tra i principali motivi della decisione della dirigenza della Spal la convinzione che Salvatore Sposito tra l'altro molto più giovane del giocatore romano possa assumersi con ottimi risultati il compito di fungere da regista dell'undici di Venturato ora è probabile che Fabio Lupo vada alla ricerca di un elemento che possa completare l'organico del centrocampo bianco-azzurro restano di attualità le candidature di Calò ex Benevento ma ha contratto con il Genoa e Fior di Lino nelle ultime tre stagioni al Venezia oltre a perfezionare alcune sessioni il direttore dovrà poi fare tutto e di più per garantire avventurato un esterno basso quindi gli ultimi giorni di calcio a mercato che chiude il primo di settembre saranno molto caldi anche in casa Spal ma adesso parliamo di aumento del costo del gas che in queste settimane rischia di avere forti ripercussioni sull'agroalimentare la denuncia è arrivata da Coldiretti sentiamo L'aumento record del gas ha un effetto valanga sulla spesa alimentare con l'esplosione dei costi per l'acquisto dei fertilizzanti a base di azoto necessari per far crescere le coltivazioni è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'impatto del caro energia sulle tavole degli italiani nel sottolineare che i fertilizzanti azotati rappresentano circa il 70% del totale e sono prodotti dall'azoto ottenuto dall'aria e dall'idrogeno ottenuto dal gas il cui costo è diventato proibitivo in Italia nelle campagne sottolinea Coldiretti si registrano infatti rincari che vanno dal più 170% dei fertilizzanti al più 129% per il gasolio con rincari per l'intera filiera un mix che costerà nel 2022 alle famiglie italiane quasi 9 miliardi di euro soltanto per la spesa alimentare a causa dell'effetto dell'inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli sulla base dei dati Istat sui consumi degli italiani e dell'andamento dell'inflazione nei primi sette mesi dell'anno a pesare sull'aumento del costo dei fertilizzanti sono anche le misure adottate con l'inizio della guerra in Ucraina con sanzioni, accaparramenti e riduzioni degli scambi che hanno favorito le speculazioni in una situazione in cui l'Italia ha importato lo scorso anno dall'Ucraina ben 136 milioni di chili di fertilizzanti mentre altri 171 milioni di chili arrivavano dalla Russia e 71 dalla Bielorussia secondo l'analisi di Coldiretti su dati Istat della quale si evidenzia che si tratta complessivamente di una quota superiore al 15% del totale delle importazioni il risultato è che più di un'azienda agricola su 10, esattamente il 13% è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività e ben oltre un terzo del totale nazionale delle imprese agricole esattamente il 34% si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari il caro energia continua la Coldiretti mette a rischio l'intera produzione alimentare con effetti sui principali fornitori con il vetro che costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno ma si registra un incremento del 15% del Tetra Pak del 35% per le etichette del 45% per il cartone del 60% per i barattoli di banda stagnata fino ad arrivare al 70% in più per la plastica sempre secondo l'analisi di Coldiretti il risultato prevedibile è un forte rincaro dei prezzi al consumo in autunno con il rischio anche di taglia alla produzione e un ulteriore aumento della dipendenza dall'estero dopo che le importazioni di prodotti agroalimentari dell'estero dal grano per il pane al mais per l'alimentazione degli animali sono cresciute in valore di quasi un terzo più 29% aprendo la strada al rischio di un pericoloso abbassamento degli standard di qualità e di sicurezza alimentare secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi 5 mesi dell'anno cronaca adesso gli agenti delle volanti della questura di Ferrara insieme alla squadra mobile hanno arrestato due spacciatori un uomo e una donna di origine straniera trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga martedì i due occupavano una stanza in una struttura ricettiva cittadina all'interno della quale è stato trovato un borsone in tela con più di 10 kg di Aschis suddivisi in 21 confezioni da mezzo chilo ciascuna oltre ad alcuni grammi di cocaina e un bilancino di precisione la perquisizione è stata estesa a una vettura di grossa cilindrata con targa estera in uso ai due dove sono stati trovati nascosti altri 3,5 kg di Aschis in 7 confezioni sotto vuoto da 500 grammi l'una come disposto dal PM di turno i due sono stati portati nelle case circondariali rispettivamente di Ferrara mentre la donna nel carcere femminile di Bologna e ora però andiamo sulle coste del Comacchiese ma anche dell'Emilia Romagna che queste presentano una buona qualità dell'acqua il dato emerge da recenti controlli effettuati dalla regione le analisi sui batteri escherichia coli e enterococchi intestinali dicono che sono in buona salute le acque del mare lungo la costa Emiliano Romagnola i dati si collocano entro la soglia di sicurezza per 96 punti di controllo come spiega la regione a fine luglio c'era stato uno stop temporaneo alla balneazione in diversi punti della riviera per parametri anomali ora invece su quasi 100 campionamenti effettuati unici due punti con parametri oltre il limite come era possibile prevedere a causa del maltempo del fine settimana sono la stazione 100 metri a nord del porto di Riccione e un punto misano adriatico chiamato rio alberello dati questi che dovrebbero rientrare già nelle prossime ore come accade in coincidenza di questi eventi nel frattempo come previsto dalle procedure la sindaca di Riccione e il sindaco di misano adriatico hanno emesso un'ordinanza di divieto provvisorio alla balneazione limitatamente a quei tratti di mare la regione spiega che il fenomeno come in altre occasioni si è verificato per un effetto trascinamento del carico batterico generato dalla forte perturbazione meteo che ha interessato la zona nell'ultimo fine settimana secondo le norme che garantiscono la qualità delle acque nei tratti interessati vengono realizzati da subito campionamenti aggiuntivi il dato storico disponibile spiega che nella stragrande maggioranza dei casi per questa tipologia di presenza batterica i parametri sono soliti rientrare nella norma entro le 24 ore e si sta per completare la seconda fase dei lavori della prospettiva che riaprirà così al traffico lunedì 5 settembre allora vediamo come si tornerà pian piano alla normalità in questa zona nevralgica del traffico cittadino riaprirà al traffico lunedì 5 settembre la prospettiva di Corso Giovecca non attraversabile dalle auto da lunedì 1 agosto per i lavori alla porzione centrale dell'opera settecentesca finanziati dall'amministrazione comunale con 85.000 euro circa la fase di restauro in corso che sta rispettando i tempi rappresenta la seconda delle tre previste porzione laterale sinistra centrale e porzione destra tra il 2 e il 4 settembre a intervento concluso il cantiere si sposterà così nell'ultima fascia liberando il transito sottostante all'arco centrale i lavori continueranno poi per altre tre settimane circa sulla porzione laterale lato via caneva senza modifiche alla viabilità veicolare responsabile dei lavori l'ingegner Paolo Rebecchi e progettista e direttore dei lavori l'architetto Rossella Bizzi in queste tre settimane l'impresa appaltatrice dopo aver installato l'impalcatura lungo l'intera altezza della prospettiva ha effettuato l'idropulizia quindi ha provveduto alla riparazione delle lesioni che comparivano sulle facciate con la tecnica cosiddetta dello scucci-cucci ossia la sostituzione dei mattoni mancanti con laterizi storici sono in corso le rifiniture delle connessioni tra i mattoni anche con armatura l'ultimo passaggio sarà l'impiego di tecniche di velatura per far trasparire il colore originario per quanto attiene alla parte strutturale come in tutte le porzioni della prospettiva è stata effettuata la verifica il controllo e la pulizia dei dispositivi isolatori sismici dei pinnacoli installati dopo il terremoto e a proposito di lavori come sappiamo l'estate è un periodo consono per svolgere certi tipi di lavorazioni ed è partito infatti ieri il rifacimento del manto stradale della centralissima via degli armari a Ferrara si tratta di uno degli interventi compresi nel pacchetto di manutenzioni da circa 700 mila euro che ha già portato alla riqualificazione stradale di una decina di arterie nell'attesa di ulteriori lavori il cantiere degli operai ha avviato ieri mattina le operazioni di fresatura della superficie stradale ammalorata nelle porzioni più degradate si procede a una fresatura più profonda terminata questa fase poi si procederà alla posa del conglomerato bituminoso per il completo rifacimento della superficie il termine dei lavori tempo permettendo è previsto per venerdì appunto per domani quindi e a proposito dei lavori è passata circa una settimana dal maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio sul ferrarese ma in particolare nel bondenese e arrivano ancora nuove ordinanze questa volta per la raccolta di amianto nelle aree private come sapete uno tra i danni che più hanno preoccupato c'era quello appunto della dispersione di amianto sul territorio causato ovviamente dai danni provocati dal nubifraggio che si è abbattuto sul territorio ferrarese ma soprattutto bondenese sentiamo con una nuova ordinanza urgente del sindaco di Bondeno Simone Saletti il comune rende organica e diffusa la raccolta dell'amianto su tutte le porzioni del territorio colpite dal nubifraggio del 17 agosto in particolare il gestore Clara dovrà provvedere in tempi molto brevi alla raccolta e all'avvio dello smaltimento tramite ditta autorizzata dei rifiuti pericolosi quali frammenti di cemento amianto e lana di vetro o di roccia presenti all'interno delle proprietà private la raccolta di questi rifiuti avverrà nelle aree in cui l'amianto è presente ma l'origine è incerta ovvero laddove i rifiuti pericolosi non siano di proprietà del cittadino che li ha nella propria area interna sempre sulla base della stessa ordinanza Clara dovrà poi organizzare un ritiro a domicilio gratuito del verde e degli ingombranti per raccogliere problematiche sui rifiuti relativi all'emergenza meteo e per segnalare la presenza di amianto non di proprietà all'interno delle aree private Clara ha istituito la mail dedicata emergenza meteo chiocciola clarambiente punto it parliamo adesso di sanità e di coronavirus siamo in attesa dei nuovi dati del bollettino come abbiamo visto negli ultimi giorni i numeri erano in calo soprattutto quelli dei nuovi contagi che ieri però sono tornati a rialzarsi nel ferrarese allora vediamo i dati riferiti all'ultimo bollettino ma come detto siamo in attesa dei dati odierni e soprattutto nei prossimi giorni si farà una valutazione del report settimanale per capire appunto come si sta muovendo in questo senso sentiamo sono 232 nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore nel ferrarese su un totale di 411 tamponi refertati non si registrano decessi mentre sono 186 le persone guarite questi gli ultimi dati relativi al bollettino quotidiano la pressione negli ospedali vede 43 persone ricoverate al Sant'Anna di Cona 36 al delta di Lago Santo e 19 al Santissima Annunziata di Cento a livello regionale i nuovi casi di positività sono 2.172 su 11.969 tamponi risultano essere 11 decessi mentre 1.492 sono le persone guarite complessivamente gli attualmente malati in Emilia Romagna sono 27.088 di cui 25.915 non richiedenti cure ospedaliere intanto proseguono le vaccinazioni a Ferrara nella giornata di martedì 23 agosto sono 429 le dosi effettuate di cui 17 prime dosi 21 seconde dosi 68 dosi addizionali e 314 quarte dosi torneremo ovviamente a parlare di questo e di altro nelle prossime edizioni del telegiornale nel frattempo per rimanere aggiornati vi ricordo telestense.it e i profili social della tv di Ferrara per non perdere neanche una notizia invece per questa edizione del telegiornale è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata Grazie a tutti